Ciao a tutti, sono Cati Noto, titolare della Glamour Cosmetics, rivenditore Crystal Nails per la zona di Messina. Rivesto orgogliosamente anche il ruolo di Master per la nostra azienda, venite con me, vi faccio vedere il mio negozio. Ecco, questa è la zona vendita, qui troverete tutti i prodotti Crystal Nails, dei prodotti di altissima qualità, performanti, sempre alla macularia. Dai costruttori ho avuto tutte le esigenze dei prodotti per la Nail Art. Grazie a tutti. Crystal Nails propone ogni anno 4 uscite novità, in modo tale da dare la possibilità alle nostre amico tecniche di creare delle Nail Art sempre di tendenza. Oltre alla rivendita dei prodotti Crystal Nails, servitemi, vi faccio vedere la nostra cadenza. Aula Corsi Eccoci qua, siamo sulla soglia della mia Aula Corsi, vi volevo presentare, anche se soltanto in fotografia dei miei 17 colleghi. Venite con me. Questa è la nostra Aula Corsi, come vedete ogni impostazione è dedicata esclusivamente a una corsista, ogni banco viene preparato con la massima cura, cura dei particolari. Come ogni corsista viene regalato il Bionic, che non è altro un quaderno ad anelli in cui vengono inserite poi tutte le dispense che diamo per ogni singolo corso, in modo che le ragazze possano non disperdere tutte le informazioni che noi diamo durante i corsi. In questa Aula si sono formate centinaia di ragazze che oggi lavorano nei centri più importanti della città e quindi possiamo dire con grande orgoglio che sicuramente siamo un punto di riferimento della nostra città, sia per quanto riguarda la vendita dei prodotti che per quanto riguarda la formazione. In qualità di Master, essendo la titolare del mio negozio, mi occupo personalmente della stessura di percorsi formativi adatti, su misura, per soddisfare le vostre richieste. Come vedete, alle mie spalle c'è un telo con un proiettore ad alta definizione, per tale che, dalle singole postazioni, possiate seguire facilmente le dimostrazioni che vengono fatte dal mio collega Master. Ci trovate in via Romagnosi 46 a Messina. Mi raccomando, mettete mi piace, se non ci sono sulla nostra pagina Facebook e Instagram, per seguirci con tutte le novità. Un bacio, a presto!